Ciao a tutti ragazzi, sono Ten e benvenuti nella quattordicesima puntata della serie Bergman. Oggi siamo qui con... Siamo già tutti. Siamo già tutti. Bergam? Eh, perché ti sveglia sempre a dirlo, adesso ho scritto io. E no, oramai ci ho preso il gusto. Dopo dieci puntate comincio a acchiapparci. A acchiapparci. Allora... Allora... Ti è scappodato. Siamo ribaltati a metà dei pallet dei sacchi di grano. Ci fa tove. Allora, prima che io mi capottassi e ribaltassi metà per terra, stavamo andando a portare a vendere i sacchi. Fortuna che sono fatti di sacchi di titanio, che non si rompono. Titanio. Comunque ragazzi, sono state pubblicate alcune news su Farm Simulator 19, cosa che io prontamente ho tradotto in italiano da un dialogo tra qualcuno e qualcun altro. Praticamente, cosa fanno? Ci saranno un sacco di nuovi veicoli. La grafica sarà 100% migliorata. Cioè, 100% sarà una mappe. Molto più bella. Due nuove mappe, una europea e una americana, di nuovo. E quel altro, quel del DLC? Eh, sì, oltre alla estancia, la passantola del DLC Plus. Ma che cazzo che... Eh sì, estancia... Stati gli zingri. Eh, stati gli zingri. No, ma è sopra, evidentemente. Poi ci sarà texture in base alla fisica, quindi a quanto pare il trattore se si schiaccia a qualche parte, se si sterrà, insomma, qualcosa del genere, si sporcherà la visura del dovere. E poi devo parire il brato, come te? Eh, siamo... Ah, secondo me funziona con la manutenzione giornaliera. Può essere pure. Può essere pure. Può essere che a mezzanotte andrò a fare la manutenzione e si rimette a posto tutti i veicoli. O sennò anche con la riparazione della Season, che vai là nel punto e fai ripara. Eh, prova se creare uno sfasciallo per costo il trattore. Eh, certo, infatti non lo daremo mai in mano greco. E poi se uno lagga... Eh, è quello che... Che bisogna pensare. In molti play questa funzione non la danno, secondo me. O se la danno, puoi scegliere se attivare o se attivare o se attivare, secondo me. Sarebbe molto bello. Eh no, Samu. E' un sottopo. Sì, lo so che non hai fatto niente. Ma questi qui chiusono, a che ora aprono? Eh... Mer, da me il buio venne. Eh dai, dalle 8 le 20... Ma non è sì, stronti. Mo' so, cosa vorrà dire? Però con la famiglia rampe in omaggio. E' dai, ha chiuso questa. Ma è detta. Eccolo. Fattuna. Ma qua è un negozio, eh, capisco che... Com'è che si cina? Ah, io c'ho il voto dalla finestra. In qualche modo ce li faccio entrare, eh. Anche se non me li vuole comprare, io la costrino a comprare questa signora. Questa signora venda, eh. Vieni, vieni. La paglia, dove la mettiamo? Eh... Quanti soldi? La paglia va messa... Va venduta? Dov'è che ne facevamo paglia, Sam? Cosa ne facevamo? Eh... Un po' andò al combo. Dopo era pieno... Gli hai rifatta venda a Greco, che non ti piado metterla. Ah, a posto. Gli ho avanti, non so passato lo carrello. Come sembra, no? All'andermarket, a quanto pare. Non puoi essere in realtà a co? Può essere. Eh, c'è stata fare un sacco di roba. Tra le quali cominciare, Samus, su cosa stai facendo? Ah, ok. Sarve ne ne so. Stai a piacere di qua a me? No, c'è da prendere... Fare palle, i... I sacchi di roba. Vabbè, basta che non mi fai streppeggiare. No, no. Beh, ma guarda che adesso abbiamo sei metri, eh. Non abbiamo più quattro metri. Vorrevo... Io volevo anche trinciare, quindi dovremmo anche darci un mosso per comprare una trincia. Forestale. No. Ok. Caricatore affrontale. Allora. La trincia che ci costa di meno... Per fare insilato. Ah, cavolo, famu. Temo la cosa di Jaguar. Aspetta, Jaguar. Jaguar, fai calmo un attimo. Io avevo sfalciato un pezzettino sopra il 5. Sì. Oramai sarà già ricresciuto al giorno d'oggi. No. Io se la sei sfalciato. No, tre, tre, quattro giorni fa. Mi ricordo, ieri sera ci hai rimandato qualcuno a sfalciare? Ieri sera manco abbiamo... Manco abbiamo... Manco l'attaccata, facciatrice. Ah. Ieri sera c'eravamo solo io e Simo che abbiamo fatto biodiesel. Provavamo a fare biodiesel. Eh, io c'ero da posito via. Ah, ha messo, sì. Abbiamo potuto fare un giro di sacchi, li abbiamo ribaltati un po'. Insomma. Vedete se li avete fatto a farlo? Dove stai andando, Sam? A casa. Eh, devi entrare di qui, eh. Per caricare da silo, spero. Deve stavi dicendo? Oggi, li avete fatta a farlo? No. Perché a quanto pare bisogna farlo con butti l'insilato dentro il digestore. Oggi gesto un po'. Sarebbe fare un casino di insilato, Sam? Eh. Da, porno. Allora, a te prima fa insilato, io m'ho vedere se sotto il payment resta... C'è, c'è, pervesse, se soltanto una texture... Che se no, io io messo a rofalo per la chiave. Da, no, questa è una roba. C'è una roba, c'è una roba, c'è una roba, c'è una roba, c'è una roba. C'è una roba, c'è una roba, c'è una roba, c'è una roba, c'è una roba. E, in assesa, tè desissima, lo facciamo fermo. Beh, sulla sera stagionali, neanche l'abbiamo provato a fare il silaccio. Guarda, Samu, che manovra. Ma questa roba è correndo. Eh sì, ce ne erano già un po'. Ma, Samu, è finito. Ma, è finito cosa? È il gran vento, appunto, il tuo computer è quello di portarcelo. Ah, eh, tu non mi merito, non mi merito, fai i sacchiti? Eh, non so cosa ti ho detto, ma mi sarò confuso, volevo intendevo dire che devi portarcelo. Per quello ti ho detto, devi girare di qui per il silo. Alla, balla, abito. Sì. Ci sta messo la quante rompo un pochettino. Io lo carichi a tutto. Lo fai moccila davanti a bobbia e mangio voti tutto. Ci ricarichi tutto. Di 21.000 a... Di qualcosa e di altri rafforzati. Tutte due, tutte due. Cominciamo col grano. Sarebbe bello se fosse il grano tenero o grano duro. Eh, vabbè. Eh, no, presto c'è stata la nuove culture. Ah, ma sul 19, infatti pensavo dicessi qua. Ma, scusa, se vi faccio passare il cursore qua... Ah, bello, va via. Sommè che c'è stata la avella, la canna, la zucca, la bella... Quella non ce la troviamo più le mie di oramai. E appunto. C'è stata la messa pure ecco, anche se non puoi... Non c'è la mappa negli attrezzi, ma io bollo. Mi fate rosicare, c'è una bulla compri. Se non sei reverto, perché il grano duro e il grano tenero... C'è, non è tanto uguale. Sversi. 63. Snus Village Shop. Snus. 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 Snup dog. Snup dog. Ah, ma questo è Snus. Ah, io devo portare la Raffaeisen, no, al Nusmus. Io voglio andare a andare a roba, allora, ecco. Sì. Potrezzeggi. Sì, sì, tutto tutto, carrega adesso. Io ce l'ho a mezzo, sì. Io lo scargo, dottor. Sì, sì. Io vado a fare le pallet di pallet, la, di pallet di verdure. Ma ci mette due secoli, sto grande perché se me fa nervosina cosa bollo. Perché devi... Devi tirare prima dentro l'aria. Sì, perché... Lo chiuso o non l'ho chiuso? Boh. E devi tirare dentro il tappeto. Sì, se no, quando ci passi qui, vedendo, vedo, 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 vedo. No, non lo scarico, tappeto, che è una roba diversa. Sì, sì. Allora, Simon se ne sta raccogliendo un paio tranquillo, lui. Eh, io, 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 e, 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 e scrivo intanto. A te mese come avvi mettermi a raprire le porte a soli. Escrivo, eh. Ah, scrivo. Andiamo avanti così. C'è proprio meno. Abbiamo il trattore che è più grande del carro. Più largo del carro. Però comunque... Allora, andiamo a prendere quelli là, dovrebbero essere 3, 6. Almeno 6 Li prendiamo tutti Che dovrebbero essere un altro 9% Mi sembra aver visto prima Voglio vedere un pochettino Un mezzo quanto mi costa da prendere 79,50 Allora qua Fendot 28 Mi costa troppo Eeeh vabbè Cos'è che stavi dicendo prima Samu? Ahio Si ha detto una cosa sottovoce Non ho capito però 79,50 Ma perché come è che lo... Tu vuoi 72,50 Ma eri tu o Grego che lo voleva nero? Io non me lo ricordo più Ah no io voglio normale Grego lo vuole nero A posto Ma perché saranno le porte a sole? Boh Non stoccato il mouse Si sa per le porte a sole Ma poi no quella avanti a me Quella a sinistra Eh ragazzi Facciamo che ci sentiamo tra 5 minuti Cioè 5 minuti Ci sentiamo subito Ok ragazzi Rieccomi tornato Direzione è sempre quella La a nord della mappa Anche se nel punto più a nord A dire il vero Ci siamo in questo preciso momento Tu stavamo eh Il compost Prende qua Porquit diste luschi Allora Eh cosa stavamo dicendo prima? Eh dai e io Eh eh ehm Eh ehm Ma cosa stavamo dicendo? Eh ehm Niente Vada a mangiare io mi sape Buon appetito Grazie Noi Ah stai qua lo compo Stai vedendo Si Lì dritto La scargo è il nuca panorre Il nuca panorreco No 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 Che poi non si tira più Non così Dopo è una calciara immensa qua e Eh va a finire di dietro Io ho calpestato l'acqua qui Calpestato l'acqua Calpestato l'acqua Questa è grossa eh Questa ciò che la apri la finestra eh Uh Eh no sono quattro Quindi quattro per due Otto Otto più queste qui Quanto sono? Beh nove litri Meglio di niente Oh sto bambu stacco Che facciamo? Lo spanni? Oppure Il compost lo diamo alle serre Di solito Oh ma è stata Oh Più o meno Sono barato Ecco Dovevo bocca Stamaggia Mi ha fatto un niru no? Sulla mappa? No 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 Io ecco Non c'è poco Vabbè carità Sei allergico? No 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 Vanno esce tutti poco Se no Che poco fa? Eh appunto Da sola Ti annoio Eh No Mi ha fatto un niru In giro oggi Vedere la La situazione Come è Eh niente Com'è la situazione? Ma è normale Tutto regolare Sì sì Per strade Lo sporco Mamma mia Ma lo sporco ci sta Gli spazzaneve Fa un casino Comunque Lo rompe tutto Sfona la strada Ma io non ho Eh la devono da fare Da poi Appena ho visto Un nusperaio De sole Non so Scapparmi Di età E' andato bene E' andato bene E' andato bene E' andato bene Non te polino Eh Allora fammi vedere qua Ecco io che ho votato tutto Ah sarà meglio che Le mettiamo per l'altro verso Ma questi Cioè è stato tutto? Sì Meglio così Mi sembrava ci fosse Più poco spazio Ok Questo è messo No Eh ecco Ora non è più messo Va bene Lo che è ribaltato Sti pallet Oggi Ho Reformattato D'elefante Ne me l'hai detto? Che hai perso l'instagram Praticamente Si può fare L'aggiornamento De Dei Sistemi Prattivo No? Ah E' l'ultima versione Ma come Faccio Lo ripristino No? Tu mi dici Che c'ho L'ultima versione Boh Dopo So qua E' quella Proprio Dopo tre anni Lo so Formattato Perché no 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 Quello era Quello era l'ultima Sarà fatto L'aggiornamento Quando Si è riavviato Posso Faccio L'aggiornamento Inautomatico Che può E' Che mi Cominciava A A Appontasse Tutto Capito Scappava Rappiare le finestre Come se pare Ma poi Non boccava freddo Sì ma Rappiare le finestre Non è Non è Non è Non telefono Capito Non è E' Un telefono Non bocca All'aria Ah E' Rappiare le finestre Boh No Dei google Si si Capito Specifichiamo Eh Rappiare le finestre Rappiare le finestre E' giusto Che bocca Lo fritto Eh Ce l'ha anche un mio amico Lo Zenfone 2 Ma Invece è tipo Boh Cento giochi Schiacci Poi ogni tanto Si riavvia da solo Boh Si si Ma c'ha anche lo C'ha anche lo Formata Che Ma da Da onde è che ce l'ha Eh non lo so Sarà Tre anni Minimo Eh C'ha anche lo Che lo Formata Come ce la metto Quest'ultima Per così A parte Quest'ultima Ce ne è da mettere Ancora due Non la spinge Raggiù Non ti capottare Ok Queste ci stanno E queste Ce le metto sopra Dai Mamma Ma è nato Un video Stamattina Un amico mio Quello del top Di uno No Quello non è cosa E Quello che Mi ha mandato Stamattina Facciamo finta Che me lo dici dopo Che se no Ecco è un casino Nei video Dopo quel ladro Mi ha mandato Una cosa che Va beh Meglio è passatempo Perché Non c'è cosa da fare Capito? Le persone Le persone Le persone Le persone Invece Le fatica Si petta Su il telefono Capito? Si petta Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe trago telefono boh va bene adesso ragazzi andiamo giù spero di riuscire a farvi vedere anche la vendita vendiamo tutto e se riusciamo riusciamo forse facciamo anche un nuovo acquisto che Samu non c'è vero Samu? sta a mangiare sta a mangiare il virus che come avete sentito prima ho fatto finta di niente mi ha detto il Deus 7250 io già lo stavo guardando il Deus perchè è da tanto che è lì che ci tira che gli piace quindi lo compriamo dov'è che si è messo lui? gli metto il muso con luce accesa tutto acceso davanti voglio vedere cosa dice quando ritorno poi gli dico ma è il mio? è comprato? no l'ho frittato è pieno con bari il compost? e portala allora fammi vedere land market è quello che sta in basso a destra eh eh land market ecco ci cliccono per farlo alluminare il posto non mi sembra eh non lo so Simo, anche a me lo fanno vabbè, qualche senso puoi fare in un altro modo, sai? si, seguo la mappa tanto facile Simo puoi fare esc, gli clicchi sopra landmarket e fai contrassegna luogo così puoi fare e così dovrebbe illuminarti a me non mi pare, però dovrebbe magari te che sei più vicino lo vedi grain mill ma a grain mill io ci sono mai andato pure non mica me lo ricordo spinnery spinnery dove si vende la lana il bello è che non si vende se cioè il bello di questa mappa è tipo né mappe originali oppure nel 99% delle mappe se non tutte le altre c'è il punto di vendita della lana e basta cioè tipo il punto di vendita ne hai 3 per il frumento 4 per la colza così e poi 1 per la lana 1 per la paglia invece qui è bello perché tipo ne hai anche 2, 3, 4 per la lana ne hai più di uno così non devi sempre stare lì a scegliere cioè a dire lo devo portare qua ma puoi scegliere un pochino bello Simo mi sa che non ce l'ha fatta contrassegnare luogo aspetta 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 pare di sì allora un altro offendo e qua c'è già 7 ore io questo trattore non l'ho mai fatto lavorare in campo mai come cazzo si chiama? l'armarket l'armarket e tu che cosa sta ecco? mh l'armarket no eh ma basta che ci clicchi sopra Simo clicchi sopra l'icona l'icona l'arrivo vicino l'arrivo vicino l'arrivo di dove si arriva si la della discarica va 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 eh che questi maine caga beh meglio dei porchi quante ce ne sta? eh la cosa su quella casa ce ne da 3-4 allora adesso prima che piove ci mettiamo a raccoglierla facciamo facciamo anche il liquame ma quanti ce ne è? ci mettere è chiuso ma la spazzatura eh quanta ce ne è? eh anche qua ce ne è quattro ma qua troppo si vede che sono tutti pieni no non sono portato via ma non si sente ma non si sente è sparito sparito una settimana che sparisce sparisce pur beh e dai ma non mi dire che pure questo è chiuso due anni fa no due anni fa l'effetto va in vera no non dire nessuno che è partito è sparito un mese è sparito lo segui tu pulcheria romania pur che è bulgaria lo pupo e dai ma non può essere capato e non si può vendere ma una presa per il fondelli questa per il fondelli si per il fondelli del signor fa pop 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 apresa per il cuore in spesso dei peccati risatti ma quello adesso tiriamo sul tempo ma io quale allora devo vendere quello che deve e non mi fa vendere questi non li fa vendere che devi venire la lattuga e io gli consiglio fresco alle 10 e mezza fammi vedere fresca io ho magari mio prima e vaffan bagno alle 7 3 patronda anche alle 6 sono le singhiape appunto io che gli apporto le 10 meglio mi egli sta a dormire la maniera del sale al ma ecco perchè ti piace a palama perchè testa stato ecco che si vengono dalla non è costo posto ecco tutto se venga andrà da qualsiasi venga anche il libro ma io in questo caso devo vendere quando permette ball mao su voi uno di voi attraverso attraverso la domanda l'acqua esito del giugno di anche se l'andano per me bene qua non è mai l'altro giorno era tamburini che facciamo la stessa cosa e quanti gli avriano come cazzo che sarà preso chiuscara pagliare per averlo di dvd basta che andai a livello di porto suonare il mondo corretto buon appetito open close ok ma ti posto sono qui a faccio tab mesi bambini no non si capisce come costo non è venuta il motivo per la visione da den primo è tutto ciao a tutti